segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te mentre si sta per preparare un'operazione militare guarda mi piace parlare qui per l'esperienza con essere quasi un cronista che ha potuto vedere allora cosa posso dirti che lì oltre a quel con in quel col su quel confine ci sono le forze dell'unifol delle nazioni unite che hanno sempre visto noi protagonisti abbiamo dei cerchi concentrici io credo e i cerchi concentri sono è una questione in primo luogo delle donne degli uomini che vivono in israele nei territori occupati a gaza ricordiamocelo sempre lì su abbiamo il cosiddetto fronte nord per israele che di fronte a chi dovrebbe avere l'esercito libanese in realtà le forze di hezbollah che sono lo stato nello stato cioè le forze della milizia sciita libanese filo iraniana perché ti parlavo di cerchi concentrici perché abbiamo la questione di israele e dei palestinesi abbiamo la questione regionale perché la questione regionale vede protagonisti l'arabbia saudita la libano la siria e soprattutto l'iran ma vai ancora allargano ancora di più questo cerchio e allora vedi che la partita è più ampia perché quella partita vede proprio gli stati uniti per ragioni storiche e non solo a tutti dimenticano che nel 2015 i russi sono tornati sul mediterraneo in siria ridando vita alla tachia ea tartus ma i russi par guardano israele dal 1948 israele dal 1948 in un modo dove c'è sempre stato un legame un feeling e ricordiamo il milione di russi provenienti dalla russia in israel quindi tu ricordi questo quindi voglio dire arriva biden che è un protagonista del cerchio concentrico più ampio in questa partita si inserisce riscono tanti attori però oggi quando parliamo di tutto questo lasciamelo dire io ho sempre guardato a quei ragazzi del quanto hai vissuto tu in israele ricordiamolo più di cinque anni e ho vissuto anche andavo avanti dietro non facilmente anche dalla giordania dalla dal libano ecco lì c'è questa partita mettiamo un punto lo vorrei mettere in quel rave perché i ragazzi uccisi o presi ostaggio sono quei ragazzi ho visto tante volte a te live in tante parti di israele e guarda caso erano quelli che avevano un'idea completamente diversa del rapporto con i palestinesi con lo stesso establishment in questo momento ecco per tornare da quello per arrivare al cerchio concentrico più grande cioè arriva biden arriva evidentemente la politica internazionale e allora